In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Ben ritrovati carissimi fedeli per il commento al Vangelo della Domenica. Domenica prossima è la Domenica di Pentecoste e nel Vetu Sordo si legge il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dal 23 al 31. Leggiamo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e verremo presso di Lui e dimoreremo presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto mentre sto con voi, ma sarà il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel mio nome, a insegnarvi tutte queste cose, e ricordatevi tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà. Non si turbi il vostro cuore, né si sgomenti. Avete udito che io vi ho detto, vado e ritornerò a voi. Se mi amaste, godreste che vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Le vi ho parlato ora, prima che avvenga, affinché quando avverrà, crediate. Non parlerò più di molte cose con voi. Viene infatti il Principe del mondo, e contro di me non può fare nulla, ma affinché il mondo sappia che amo il Padre e che faccio quel che il Padre mi ha comandato. Ecco, carissimi fedeli, all'inizio di questo brano, che è uno di quelli che appartengono alla sezione dell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni ci sono ben cinque capitoli che riguardano i discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Qui siamo nel capitolo 14. I capitoli interessati sono dal 13 al 17 compresi. Dicevo, questo brano inizia con questa affermazione. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco il criterio. Per capire se amiamo veramente il Signore, e se una persona ama veramente il Signore, è vedere come osserva i comandamenti di Dio, come osserva la parola del Signore, se la mette in pratica o se almeno si sforza di metterla in pratica. Ecco, questo contro un concetto di cristianesimo che purtroppo è largamente diffuso oggi, per cui tutto può andare bene. Possiamo presentarci tranquillamente in chiesa, davanti all'altare, partecipare agli incontri ecclesiali, trascurando i più importanti comandamenti. Tanto il Signore è misericordioso. Queste persone, e a volte anche noi, mettiamoci pure dentro, non amano veramente Gesù. Si ama Gesù quando si mette in pratica, o dico almeno ci si sforza di mettere in pratica, i suoi comandamenti. Questo è il segno che una persona ama il Signore. Ma un cristianesimo così, diciamo superficiale, nel quale tutto può andare bene, è protestantesimo, non è cattolicesimo. Per i protestanti può andare anche bene così. Cioè, secondo Lutero, le persone nascono con già una predestinazione alla salvezza o alla condanna, non importa quello che combini sulla terra. Cioè, per loro, la salvezza dipende soltanto dall'atto di fede e non dalle opere. È sbagliatissimo, perché la fede si esprime nelle opere. L'amore per Gesù si esprime nelle opere. Si esprime nei comportamenti, nelle cose che fai. Benissimo. Allora, Gesù dice se uno mi ama, osserverà la mia parola. Questo significa che mi ama. E il Padre mio lo amerà. Ecco, chi ama Gesù viene amato dal Padre. Questo ci fa capire quanto amore il Padre ha per Gesù, per il Figlio. Tutti quelli che amano il Figlio sono amati dal Padre. Il Padre mio lo amerà e verremo presso di Lui. Ecco, io e il Padre verremo presso di Lui e dimoreremo presso di Lui. Quindi il Padre e il Figlio vengono dentro alla persona che ama Gesù e dimorano nella persona che ama Gesù. In che modo dimorano il Padre e il Figlio nella persona che ama e che si sforza di mettere in pratica i comandamenti? attraverso il dono dello Spirito Santo. Attraverso la terza persona della Santissima Trinità. Del resto lo Spirito Santo è l'amore del Padre per il Figlio e viceversa. Reso persona. Ecco, quindi ci sarà una presenza di Dio all'interno delle persone. Questo è molto bello. Gesù fa questa affermazione in risposta a quegli apostoli che avevano detto ma Signore è questo il tempo in cui restaurerai il Regno di Israele o dobbiamo aspettare un altro momento? Perché non avevano capito. Ancora aspettavano che Gesù instaurasse un Regno politico sociale. invece Gesù risponde dicendo che il suo Regno è all'interno dei cuori delle persone laddove si stabilizza la presenza del Padre e del Figlio attraverso il dono dello Spirito laddove c'è un cuore che ama che ama Gesù e che si impegna a mettere in pratica le sue indicazioni i suoi comandi. Ecco allora sì il Regno di Dio si instaura all'interno delle persone. Lo ha detto anche Gesù in un altro passo del Vangelo di Luca quando dice il Regno di Dio è dentro di voi. A questo proposito si può citare l'Imitazione di Cristo questo bellissimo classico di spiritualità che tanti di voi conoscono probabilmente hanno anche letto e meditato. Nel libro secondo al capoprimo dice il Regno di Dio è dentro di voi dice il Signore convertiti con tutto il cuore a Dio e lascia questo misero mondo e l'anima tua troverà riposo. impara a spregiare le cose esterne e darti alle interiori e vedrai venire in te il Regno di Dio poiché il Regno di Dio è pace e gaudio nello Spirito Santo il quale non è dato agli empi. Leggo ancora qualche riga verrà te Cristo e ti farà gustare la sua consolazione se gli avrai preparato dentro una degna dimora. Tutta la sua gloria e il suo splendore viene dal di dentro e quivi egli si compiace. Frequenti sono le sue visite all'uomo interiore dolci i suoi colloqui con esso soave la consolazione molta la pace meravigliosa la familiarità coraggio dunque anima fedele apparecchia questo sposo il tuo cuore affinché si degni venire a te e stabilire in te la sua dimora poiché egli dice se alcuno mi ama osserverà la mia parola e verremo a lui e stabiliremo presso di lui la nostra dimora vedete carissimi fedeli quanto è importante curare il tempio il tempio interiore della nostra anima il luogo in cui noi adoriamo il Signore in spirito e verità il luogo del nostro amore della nostra adorazione della nostra offerta al Signore è una chiesa una chiesa spirituale una chiesa interiore che deve essere tenuta pulita da tutto ciò che può inquinare il nostro culto di adorazione a Dio questo significa essere cristiani ben piantati significa essere cristiani solidi certamente non superficiali superficiali sono i cristiani che si perdono nelle cose esteriori e credono di vivere il cristianesimo ma il cristianesimo è prima di tutto la comunione con le tre persone divine e questa comunione si può realizzare a partire dall'interno di noi stessi abitiamo la nostra anima abitiamo l'interno di noi stessi laddove il signore si degna di rendersi presente ecco andiamo avanti con questa con questo vangelo dice ancora chi non mi ama non osserva le mie parole la parola che ascoltate non è mia ma del padre queste cose vi ho detto mentre sono con voi ma sarà il consolatore ecco certamente gli apostoli non avranno capito nulla perché non si rendevano conto di come potesse realizzarsi una cosa di questo genere e forse saranno rimasti anche delusi ma come ci aspettavamo l'instaurazione di un regno politico e sociale tu ci stai parlando di una di una cosa tutta intima tutta interiore e quindi rimangono come spiazzati ma il signore dice non è importante che capiate tutto ora l'importante è che io le cose ve le abbia dette quando si realizzeranno capirete di più farete il collegamento tra le mie parole di oggi e quello che si realizzerà piano piano cioè il piano di Dio e allora comprenderete fino in fondo ma non solo comprenderete con la mente riceverete anche dall'alto la forza dello Spirito Santo che illuminerà le vostre menti e riscalderà di ardore i vostri cuori e ancora dice vi lascio la pace vi do la mia pace non ve la do come il mondo la dà certamente non è la pace di questo mondo la pace che il Signore dà è tutta interiore e procede dall'interno questo è molto importante perché ci possono essere cristiani che pregano tanto ci sono queste persone che pregano tanto ma vivono continuamente nell'agitazione e sono completamente agitati come è possibile questo se il tuo cuore è nella pace perché c'è Gesù è presente anche all'esterno si deve vedere che tu hai trovato un tesoro e che tu lo stai custodendo con amore e che tu sei il beneficiario di questo tesoro il primo beneficiario deve nascere la pace in te come è possibile che tante persone cristiane si riempiano le giornate di preghiera e nonostante tutto vivono sempre nell'agitazione forse non curano abbastanza il tempio interiore della loro anima ancora non si turbi il vostro cuore nessi sgomenti avete detto avete udito che vi ho detto vado e ritornerò a voi se mi amaste godreste che vado al padre certo sapevano che il signore si stava mettendo nei guai a Gerusalemme lo stavano cercando aveva appena parlato di un tradimento quindi erano preoccupati ma dice vi rallegrereste invece perché sapete che io vado al padre certo l'umanità di Gesù verrà terribilmente colpita e uccisa ma questo è il mezzo per arrivare al padre non parlerò più di molte cose con voi viene infatti il principe del mondo e contro di me non può fare nulla cioè c'è lo sconto col principe di questo mondo che è il demonio e satana ma non può fare nulla ebbene tutto quello che accadrà anche la mia morte accadrà perché il mondo sappia che io amo il padre e che faccio quel che il padre mi comanda cioè il mondo deve avere questa testimonianza anche attraverso la mia passione e la mia morte deve sapere che io amo il padre e che faccio tutto quello che lui mi dice quindi la volontà del padre prima di tutto ecco l'esempio l'insegnamento che ci dà Dio che ci dà Gesù ecco cercare la volontà del padre lo spirito santo quindi vedete che viene nella Pentecoste questo non è scritto non è scritto nel Vangelo ma nell'epistola nel brano degli Atti degli Apostoli si presenta come fuoco mentre nel battesimo di Gesù al Giordano si presentava come colomba cioè come pace mitezza purezza eccetera qui si presenta come fuoco perché trasmette agli Apostoli un ardore molto particolare quello che permetterà agli Apostoli di andare in tutto il mondo e di annunciare con coraggio e fermezza la parola del Signore affinché anche gli altri possano conoscere la salvezza sia rodato Gesù Cristo in nome ne Patris et Fili e Spiritus Santi Amen